Siamo al Polo Carmignani dell'Università Normale di Fisa. Abbiamo appena inaugurato la mostra di Ampaz Nazionale che è stata allestita in occasione del 120esimo di attività unitaria del nostro movimento. È una grande emozione perché davvero in questo luogo possiamo leggere e vedere attraverso le foto la storia, i punti salienti, i tratti salienti del nostro movimento non solo nelle azioni che i volontari e le volontarie delle pubbliche assistenze nel tempo hanno messo in atto ma proprio il modo di essere e di dedicarsi alla comunità. Ed è una grande emozione perché la mostra è stata pensata proprio con l'idea di poter essere itinerante e quindi per poter coprire tanti territori, tante comunità dove sono presenti pubbliche assistenze ed essere arricchita di quelle che sono le peculiarità di quel territorio, di quelle comunità, di quelle pubbliche assistenze che anni e anni or sono portavano assistenza, soccorso, nel sanitario, nella protezione civile, nel sociale e in molto altro. Quindi venite, venite a vederla, sarà presente in questi tre giorni e poi continuerà il suo percorso su e giù per l'Italia fino alla fine di questo anno.